Harry è un ragazzino arrabbiato che vorrebbe essere amato quanto il fratello William, a secondo un suo amico che ha parlato al Sunday Times. L'amico in questione ovviamente è britannico e a suo dire riceve ancora ogni tanto qualche messaggio whatsapp da Harry. Le sue parole precise, penso che a Harry manchi disperatamente stare in Gran Bretagna e che voglia essere ammirato di più. Chiunque lo conosca sa che prefererebbe stare qui, amato da tutti come succede con William e Kate. E un altro suo vecchio amico dice qualcosa di simile. Harry è finito isolato dalla sua famiglia e dalla maggior parte dei suoi vecchi amici, in un ambiente in cui le amicizie non sono come quelle che ti formi quando sei un ragazzo. Un tempo gli piaceva passare una serata al pub e poi una notte fuori in campagna con gli amici. Forse ora è una persona nuova, ma penso davvero che questa nuova vita californiana gli si addicca? No, continua l'amico, abbiamo visto tutti come gli è andata e che cosa gli è rimasto. In apparenza ha uno stile di vita invidiabile, ma non riesco a immaginare che l'Harry che conosco volesse finire in un esilio dorato in California. Come vedete ho corredato questo piccolo resoconto dei vecchi amici di Harry con tante immagini di lui e Meghan felici in Colombia. Forse in realtà i suoi amici non lo conoscono più come un tempo. Però due spunti di riflessione. È stato Harry stesso a raccontarci, neanche due anni fa, dell'amore che provava per il Botswana. Una terra incontaminata e naturale in cui scappava ogni volta che poteva. Quando i suoi amici dicono che non lo immaginano felice a Hollywood non si stanno inventando le cose. Era Harry stesso che, come ha scritto nella sua autobiografia, da giovane desiderava lavorare come il ranger in un parco safari. E avrebbe voluto essere insieme ai suoi commilitoni nell'esercito, semplicemente uno come tutti gli altri. Il desiderio di imporsi nel mondo dell'entertainment forse era più della moglie Meghan. E sicuramente non era estraneo neanche a Harry, che comunque ha sempre sofferto moltissimo di stare nell'ombra del fratello. Il fatto che appaia così felice nella quattro giorni di tour in Colombia non contrasta con quanto sostenuto dai suoi amici. Harry ama i bagni di folla, ama fare il principe. Sente di seguire la via di sua madre Lady Diana quando va a mischiarsi tra la gente per delle cause benefiche. C'erano altri reports di lui che a Montecito non era così felice. E considerando che questi tour nel tempo continueranno a diminuire in numero, senza cattiveria non si sa davvero quanti altri paesi poveri possano permettersi le misure di sicurezza richieste da questi due. Harry potrà davvero essere felice se non continuerà a fare il principe che gira per il mondo? Ora come ora ho una sola certezza. Il fatto che questi amici abbiano parlato con la stampa lo renderà ancora più paranoico. Già ha rotto amicizie importanti come quella con i Beckham quando ha creduto che David e Victoria stessero parlando di lui e Meghan alla stampa. Figurarsi se ora non taglierà i ponti con tutti gli amici britannici che gli sono rimasti, visto che non è in grado di identificare chi ha parlato al Sunday Times. Forse non è stata una grande mosso da parte di queste persone. Ma voglio sentire la vostra. Secondo voi Harry resisterà a lungo in California? La sua carriera di royal falso, itinerante con Meghan a un futuro? Fatemelo sapere nei commenti e seguitemi per altre news reali.